Ancora una vita stroncata lungo la regionale 71, la strada più nera dell'Aretino, questa volta nei pressi di Santa Mama. A perdere la vita lunedì pomeriggio un giovane di soli 26 anni, Adrian Christian Jacob, che viveva con la famiglia proprio nella frazione di Subbiano. Era un operaio e come lui anche il fratello di 23 anni, che si trovava a bordo della Peugeot 308 Station Wagon, finita nella corsia opposta prima di schiantarsi contro un SUV Mercedes, che viaggiava in direzione opposta. Uno schianto improvviso che non ha lasciato scampo al giovane, nonostante i tentativi di rianimazione dei soccorritori arrivati immediatamente sul posto. Troppo gravi infatti le ferite riportate. Purtroppo anche il fratello, versa in gravi condizioni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Lescott di Siena dall'ambulanza infermierizzata a causa delle varie fratture agli arti riportate dopo il violento scontro. Rimasta coinvolta nell'incidente anche un'altra persona, un farmacista di 73 anni, che siede ai vertici di Federfarma di Arezzo, residente in Casentino, che è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Bibbiena. Ancora al vaglio degli inquirenti la dinamica dell'incidente. Sul posto gli agenti della polizia stradale di Pontiapoppi che hanno eseguito i rilievi. L'informativa sarà girata alla procura che procederà con le indagini. La notizia della morte di Cristian ha scosso e commosso l'intero Casentino. Il 26enne era infatti cresciuto a Santa Mama, arrivato nel comune di Subbiano da circa 15 anni, si era subito integrato.